L'Università d'Urbino dedica due giorni al caso di Stefano Cucchi. Qual è l'importanza di ricordare di fronte a un pubblico di studenti, comunque in aule universitarie? È fondamentale. Io credo sia la cosa più importante che io possa fare in questo momento. Il fatto che si parli di mio fratello, il fatto che si racconti la sua storia e che la si racconti ai giovani, ai ragazzi, agli studenti, a coloro che tutto sommato sono le persone che hanno il futuro nelle loro mani. E anche la possibilità di cambiare questa società e tutto ciò che è di sbagliato in essa c'è. In primo grado i medici sono stati condannati, in secondo grado tutti assolti però. Ora arriva la Cassazione ma c'è il rischio che intervenga la prescrizione. Quali sono le prossime vostre mosse legali? Chiaramente il rischio è concreto considerando che per quanto riguarda la morte di mio fratello si continua a parlare di lesioni lievi e la prescrizione è veramente dietro l'angolo, ottobre. Il prossimo passaggio sarà la Cassazione e comunque noi andremo avanti. Sono certa che non è finita qui e lo dico nel momento in cui ci sono due sentenze che sì è vero che fanno delle assoluzioni ma comunque riconoscono ciò che per cinque anni si è voluto negare, cioè quel passaggio. Lei cosa chiede alla giustizia italiana e soprattutto crede ancora nella giustizia italiana? Beh intanto se non ci credessi io non continuerei ad essere in quelle aule dove vi assicuro si vive ogni volta un dolore enorme, un enorme sacrificio per le nostre famiglie essere lì dove il più delle volte assistiamo a dei processi e alle vittime, a un massacro della memoria, del ricordo, della dignità dei nostri cari. E quello che mi aspetto alla giustizia è che dimostri di essere davvero giusta e davvero uguale per tutti e che sia capace per una volta anche di giudicare se stessa. Tenere vivo il ricordo di suo fratello, come può migliorare la giustizia italiana? Penso ad esempio all'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento. Beh sì, ce ne sono diciamo di passi da fare, questo può essere un primo passo. Ne abbiamo visti tanti, insomma se io mi guardo indietro mi rendo conto benissimo da dove sono partita nel momento in cui mi lamento dei risultati che abbiamo ottenuto, comunque della sofferenza che tutto questo ci ha costato. Io non posso non ricordare da dove siamo partiti, da un certificato di morte naturale, dalla morte di mio fratello che ci veniva comunicata con un decreto di autopsia e dall'immagine di quel corpo martoriato che avevo davanti agli occhi, che era dietro ad una tegra e non potevo nemmeno toccare. In quel momento mi sono sentita sola, totalmente disarmata di fronte a qualcosa che è tanto più grande di me. Non capivo nulla, ero frastornata. L'unica cosa che mi sembrava evidente è che nessuna di quelle persone che avrebbe dovuto prendersi cura di mio fratello l'aveva fatto e nessuna di quelle persone che avevo adesso davanti a me era disposta a darmi delle risposte. Allora ho capito che dovevo rimboccarmi le maniche e trovarmele da sole, quelle risposte che sembra scontato ma sono indispensabili per andare avanti. Da allora di passi in avanti ne sono stati fatti tantissimo. Oggi la verità su quello che è accaduto a mio fratello viene riconosciuta e io credo che una parte del merito vada anche a tutti coloro che in tutto questo tempo hanno tenuto viva l'attenzione. Parlo dei mezzi di informazione ma parlo anche delle persone comuni, coloro che ci hanno seguiti e che hanno fatto in modo che non scendesse il silenzio perché il silenzio è la più grande arma che hanno coloro che puntano a non darci nessuna risposta.